ragazzi siamo tornati su minecraft e una cosa importante da fare c'è proprio dall'inizio mi dispiace per fixer per la sua serie quindi costruirò una stato un monumento per lui un monumento tombale qua vicino a casa proprio qua dietro allora sto pensando di farlo o qua oppure lì in mezzo all'acqua anche che anche perché lì in mezzo all'acqua sarebbe anche piuttosto figo come vedete qua i miei polli crescono le pecore non le sto facendo riprodurre qua sto diciamo provando a farmare ancora patate e lì adesso vi farò vedere cosa andremo a fare oggi ragazzi un attimo che mi libero un po questo posto ho bisogno di scavare una piccola tomba metterci tipo non lo so la scaviamo di profonda 2 ok ci mettiamo una cassa magari unita decentemente ok dentro la cassa ci mettiamo le ossa di fixer tipo così così potrebbe starci fa un po schifo ma potrebbe starci e ovviamente ragazzi visto che lui usava molto il quarzo gli mettiamo un paio di blocchi di quarzo questo dovrebbe essere questo dovrebbe essere sì il cadavere di fixer in teoria gli manca la testa ma la testa di whither non gliela metto manco morto perché quella mi serve quindi ora che abbiamo fatto chiudiamo con della pietra e mettiamo un cartello rivolto verso il mare visto che gli piace il mare ok penso che possa andare bene un po macabro ma secondo me va bene allora tutta questa sabbia la dovrò togliere prima o poi lascerò solo un lembo di terra dove ci sarà il suo la sua zona commemorativa e adesso vi faccio vedere cosa andremo a fare oggi allora se dovesse il personaggio ok oggi andremo a fare la farm di cibo ho già preparato il quadrato dove andrò a farla e tutto questo grosso quadrato devo farmi le torce sì lo so nell'inventario ho già un po di roba tipo ossa per per far crescere velocemente ho anche un po di alberi da piantare semini canna da zucchero patate e per il momento è tutto ciò che ho da piantare e andrò ovviamente in spedizione per cercare nuove cose nuove farm nuove cose da piantare tipo girassoli ah giusto c'ho anche la verruca del nevere quindi posso piazzare anche quella visto che era notte ne ho approfittato per morire qua cosa sta succedendo tra galline e polli si tra galline e pecore non ne ho idea ma non mi interessa al momento allora riempiamo due secchi d'acqua velocemente devo decidere dove piazzare l'acqua allora prima di tutto ho bisogno di terra e ce l'ho avrei bisogno di molte torce e non me le son portate però va bene per il momento così e ho deciso di fare tipo tutto a strisce siccome le mie idee mi arrivano quando io ancora cioè quando io sono già uscito da casa sono tornato indietro a prendermi la pala per fare una cosa interessante prima di tutto devo coprire qua spaccare a file alterne sento zombie ovunque penso che ci siano degli zombie sotto di me è la cosa non mi piace più di tanto spero vivamente di no però li sentite anche voi l'idea è quella esattamente continuano a salutarmi questi zombie maledetti perché secondo me mi vogliono solo salutare al momento non mi vogliono mangiare ok in teoria questo è il campo coltivabile tutta la parte di sopra ne lascio 4 a destra 4 a sinistra e questo lo uso come cioè questo al centro non lo coltivo per il momento però allo stesso tempo devo farci qualcosa per poter salire in alto intanto devo muovermi a lasciare un altro po' di blocchi qua tipo una roba del genere per separare dovrebbero essere 8 sì 8 e 8 sono sicuro al 100% quindi questo al centro ho detto che lo continuo e lascio uno spazio per andare a destra e uno spazio per andare a sinistra che poi questo ovviamente lo farò in pietra ma adesso non ho abbastanza pietra me ne dimenticherò sicuro al 100% quindi forse è il caso di andare a prendere la pietra adesso ok perfetto questa dovrebbe essere tipo la zona solo del grano quindi in questa parte ci metto solo i semini molto semplice come cosa da fare e tipo le patate faccio un lato semini un lato patate o comunque cosa che può crescere senza bisogno di altezza o di altri cubi quindi adesso inizierò così magari carote non lo so quando le troverò le carote magari le trovassi quindi allora adesso con questo iniziamo non abbiamo messo l'acqua non ho messo l'acqua quindi forse è il caso di muoversi a fare una pozza infinita qua se no veramente ci metto una vita ok ok è ok perfetto qua si può mettere l'acqua ok ragazzi ci ho messo veramente un casino di tempo a fare sta cosa per riempire tutto di acqua tutto nei punti giusti e non so perché qua si sia bugato sinceramente ma io ci rimetto un secchio d'acqua allora i campi sono completamente rigati non so se stia laggando il gioco o se veramente c'è qualche problema qua con i secchi d'acqua dovrebbe essere tutto a posto ora sta facendo anche buio maledizione quindi mi conviene muovermi a fare tutta sta roba qua no non ci siamo capiti ok perfetto ho finito la zappa quindi devo muovermi e tornare a casa farne un'altra a dormire visto che ormai è buio ci sono degli zombie sopra la tomba di fixer non va bene eh sì devo muovermi assolutamente prima che mi ammazzino allora letto subito ci sono già dei creeper oddio un enderman no grazie ciao 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 non mi vedi non mi vedi non mi hai visto non mi hai visto vattene via ok quella cosa lì è uno scheletro in mezzo all'acqua che mi sta sparando maledetto e mi ha anche non ci credo devo ok meglio che tu muoia perfetto ora ho sistemato qua devo continuare a zappare e anche qua sotto uno e due no di nuovo di nuovo ok anche da quella parte sicuramente appunto e sapete che ho intenzione di fare tutto qua intorno ci piazzo alberi ci piazzo alberi per fare tutta la parte in legno in modo da non dover poi piazzare io i cosi degli alberi dove ce li ho dove ce li ho ne ho 18 quindi per il momento faccio la facciata di entrata quindi tutta questa parte qui mentre qua al centro lo tolgo perché ci metterò una porta con la bone meal dovrei riuscire a far crescere gli alberi piano piano sperando che vada tutto bene poi tolgo le foglie e mi lascio direttamente solo il legno ok possiamo iniziare a piantare qualcosa di decente io partirei dai semini per fare il grano che ne ho veramente tantissimi come avete potuto vedere mi sono bastati mi sono bastati giusti giusti 84 semini 64 semini mi sono bastati giusti giusti 64 semini ragazzi non ci voglio credere mentre patate dovrebbero bastermi uguale perché sono comunque 64 giusto giusto basta che non te le mangi personaggio maledetto ok potrebbe risultare una palla togliere tutte le farm da qua nel senso andare a raccogliere e ripiantare devo ovviamente automatizzare la cosa con un dispenser in modo che tutto vada in acqua e vabbè e che cos'è già così tanto è cresciuto l'albero ok che sei vicino all'acqua ma non ti sembra un po' di esagerare ok ragazzi sto iniziando a fare il secondo piano e bisogna fare più o meno quello che avete visto ovvero rifare lo stesso sistema la stessa struttura che c'è là sotto e qua sopra ci pianterò tipo zucche o in effetti ce li ho le zucche zucche meloni che quelle si possono anzi si devono piantare con un blocco a fianco quindi farò un sistema simile ma allo stesso tempo leggermente diverso per questo verso allora vediamo un po' intanto qua gli alberi stanno continuando a crescere come avete visto ne è cresciuto un altro altissimo prima erano due tipo adesso sono quattro e stanno continuando a crescere quindi prima o poi riusciremo ad avere tutto 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 mi sono fatto le cesoie per prendere un po' di foglie e fare tipo la tettoia non lo so poi si deciderà vediamo cosa esce prima di tutto però come ho detto devo finire questa parte poi dovrò fare molto vetro molto veramente molto vetro e coprire anche il lato in modo da vedere da fuori quando una cosa è pronta o quando non lo è quindi in modo da avere una farm un po' più efficiente la farò una scala per salire su farò tutto il pilastro riempito di scale in modo da poter tranquillamente salire scendere e buttarsi e mo' vediamo come esce questa cosa ovviamente ragazzi mega taglio sino a quando non ho finito questa parte se no non ha senso neanche che la vediate sarebbe noiosa ok ragazzi è passata tipo quasi un'ora da quando ho iniziato questa costruzione adesso ve la faccio vedere bene ho messo tutti gli alberi come avete visto qua attorno ecco qua mi mancano gli alberi in effetti devo aspettare raccogliere foglie ho diciamo deciso di fare una cosa piuttosto intelligente qua sopra ho diviso in questa maniera qua al centro ovviamente ci andrà tipo allora acqua qui pietra qui da qua si sale da questi lati si sale poi qua a parte l'alberone enorme gigantesco chilometrico ho deciso di fare tipo qua a parte la scalinata stupida il coso per il compostabile quindi raccolgo le foglie con le cesoie le metto qua dentro mi faccio bonmil faccio crescere gli alberi fino a quando non ho tutto il recinto di alberi pronto qua ho messo alla fine gli slab al posto di terra e mentre da sotto si vede della granito da sotto proprio qua al centro dove andrà l'acqua e ho deciso di fare così perché boh sembra più carino poi qua a salti metterò della glowstone per illuminare nulla di particolarmente importante il pilastro penso che comunque se posso lo faccio in glowstone proprio la parte centrale sopra ci andranno zucche e meloni che al momento non ho i meloni proprio non ce li ho devo trovarli poi al piano di sopra ancora ci andranno carote e qualcos'altro non ne ho idea ma comunque qualcosa ci andrà carote girasoli magari e poi non so devo trovare qualcosa se avete dei consigli ragazzi mi raccomando fatemi sapere io adesso vado a prendere altre cesoie a finire l'albero spaccare tutto e finire tutta la farm di alberi attorno e poi ci sentiamo in un prossimo video ciao 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 ciao